giovedì 3 gennaio 2019 memoria del santissimo nome di gesù dalla prima lettera di san giovanni apostolo figlioli se sapete che dio è giusto sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da lui vedete quale grande amore ci ha dato il padre per essere chiamati figli di dio e lo siamo realmente per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui carissimi noi fin d'ora siamo figli di dio ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato sappiamo però che quando egli sarà manifestato noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro chiunque commette il peccato commette anche l'iniquità perché il peccato è l'iniquità voi sapete che egli si manifestò per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato chiunque rimane in lui non pecca chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto dal salmo 97 tutta la terra ha veduto la salvezza del signore cantate al signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo tutta la terra ha veduto la salvezza del signore tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro dio acclami il signore tutta la terra gridate esultate e cantate inni tutta la terra ha veduto la salvezza del signore cantate inni al signore con la cetra con la cetra e il suono di strumenti della corde con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re il signore tutta la terra ha veduto la salvezza del signore dal vangelo secondo giovanni in quel tempo giovanni vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a israele giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di dio e io ho visto è un figlio di dio Grazie a tutti. Grazie a tutti.